ragazzi allora incominciamo con un coro che Ibrahimovic lascia il cacciogiocato che ha fatto una stagione non positiva però ha lasciato il segno a Milano perché Milano ha sempre sostenuto un grande bumbo e come giocatore è un campione che più li sa quando male ok che come uno libra non ce n'è quindi mi raccomando e iniziamo con questo video dove ci sono tanti tanti emozioni ma anche Gagliardini Marshall l'inter così come nascerà Rabiot anche parentes mi sembra poi sono in prestito come barinacea di Maria speriamo che se ne va pure la Cacca e Moisecchino e questi sono altri nomi per Vandio ma niente che possa toccare anche sul futuro di Chiesa e di Milanovic che poi Baluci nascerà il calcio per lui al 2024 quindi questi sono gli anni più belli ed emozionanti nel calcio italiano come leggenda da questa parte come bandiere e di tutto il mondo che ci circola su 24 ore su 24 nel mondo nel calcio mondiale europeo quindi lo so questo non dire però analizziamo il giorno dopo quindi metto da parte questo e quindi ricapitolando a quello che sto per dire ora e che non vedi scrivermi al canale se non avete ancora fatto e ti mando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti quindi ho lasciato anche un video di Ibra e come mi ha vissuti dal giocatore e come uomo però questo è Ibra secondo me quindi like e anche i commenti per il questo è il mercato ok quindi fatemi sapere tutto che cosa ne pensate di questo quindi analizziamo questa cosa della partita di ieri sera perché si è commosso per i ragazzi perché era stata una stagione scantanosa a dir poco scorretta nei confronti di una una nuova indistrutta morta e seppolta però ricordiamoci che noi siamo l'alimentus ricordiamocelo questo ragazzi ricordiamocelo se come abbiamo perso tante battaglie è vero ma in caduta bisogna abbattere a quello che ha creato l'alimentus dobbiamo abbattere tutti l'anno prossimo tutti mio male è che finita questa stagione mio male quindi ma io mi batte così l'uniese per una zero con la rete di chiesa e qua è tutto riaperto invece di fare la conferenza andiamo in Europa League ok e come ci ha detto Balucci stiamo momentaneamente terzi in classifica a pari punti con l'inter quindi questo è inizia per conto riguardanti dietro che si affrontano lo scontro salvezza e quindi è lo scontro diretto tra Verona e Spezia quindi vediamo un po' come è questa situazione va bene quindi questo è il mio pensiero sulla classifica però pensiamo la classifica nostra quindi il paginone dell'alimentus è questa con sesni e Perin che hanno fatto ottime cose e quindi va bene così con Danilo, Balucci, Bremer, Alessandro e Conrado in difesa con Gatti e anche Rugani e di tutti è una prima con Loro e di ogni anno prossimo poi vendiamo un po' poi Ivarì, Locatelli, Pogba che non ha mai giocato e quindi si è fatto un'altra volta male e quindi è un infortunio contro la Cremonese e ci sta però però facciamo i bilanci ok? Poi abbiamo visto un ottimo Fagioni, poi Barnecea all'inizio e nella seconda in stagione non abbiamo avuto, con Miretti anche, su nel suo primo gol stagionale con la Maria Andena in bianco nero e quindi è la prima in stagione. Poi abbiamo visto un ottimo Cateri anche, Rabiu che ha fatto un gol su 12 o 13 assist ha fatto. Poi Parentes che ha fatto un'ottima cosa ieri, però ha sbagliato, però dobbiamo concretizzare meglio nella fase della partita perché abbiamo delle difficoltà addosso e quindi bisogna rialzarsi all'anno prossimo. Quindi Parentes va bene. E quindi Di Maria ha fatto una buona cosa ieri e non ha sbagliato niente. Chiesa, anche Poremilic, Moisekin, Manaomic che sono dieci gol a partita più unci fatti. E poi anche sulla prima marcatura contro il Sibiglia. Quindi Gatti ha fatto la prima rete in seconda in stagione e questi sono i bilanci nei giocatori fatti. Ok? Quindi questo è tutto. Poi Bremer che ha siglato il quinto gol in stagione contro la Cremonese e va bene così. Però era solo l'udinese. Sì, è vero, però non abbiamo fatto niente al primo tempo. Però nel secondo abbiamo reagito a una squadra. e questo è il progetto. E questo è il progetto del Narei Mendus. Ok? Perché Pizzo, perché Pizzo io non ha mai giocato. E quindi è arrivato insieme a Cesni. Nel 2017-18. Così nel 2018-19 l'ha convocato. E nel 2021-22 nemmeno non ha fatto giocare a Pinzoglio. e quindi basta così. Però dobbiamo prendere alcuni giocatori da Yume e Yume quello che si sta progettando in futuro della squadra. Ok? E questo nel senofiro. Quindi questo discorso è chiuso. Però oltre al primo tempo perché c'era un rigore alla Yume. Per questo chi non è andato. Quindi va bene così. Va bene? Con la vittoria della Yume. In fuori casa. In frioli. Sono un iese. E questo è tutto. Il progetto della Yume. Quindi tutto qua. Per l'interno stesso. Per il Napoli tenendo uno sconetto. E quindi hanno festeggiato. E ora è venuto a parte. E ora è venuto a parte. E ora è venuto a parte. È venuto a parte. Ma posso dire una cosa? Ma posso dire una cosa? A quel? Do Presidente dell'UEFA. Eh? C'è ferito, tu non metti la conferenza niente, che ti metti meno, e capì, ti faccio un paio di turno, se ne vengono, c'è un'euro parola, ok, tutti quelli che ti fanno incontro suonare fisici dove fanno contro una nuova, po' qui, Krabin, Kine, Santoriel, Sandun, Kine e tutta Marmaria Nur e Fes, che hanno fatto là, ma speriamo le motivazioni del Coni, che mai esce Napoli accetto, dopo la sentenza nel 2015, nel 2010, nel 2009, non posso dire le parolacce, ok? C'è, noi, io ti ho avuto veramente il marrone, che ci va buttato veramente il pane, prima voi, che siete questo marzo, prima voi, cari cartonati, cartoni di Champions, cartonati, così, capite, cartonati d'Italia, la Champions di cartone, eh, e voi dovete vedere, non